Buongiorno, come potete vedere dal monitor alle mie spalle, dal satellite, un fronte atlantico sta interessando l'Italia e anche la nostra regione con piogge che diventeranno via via più consistenti col passare delle ore. Durante la notte tra venerdì e sabato ci aspettiamo piogge molto intense sulla fascia prealpina, intense sul resto della regione, quota neve direi ancora piuttosto alta, attorno ai 1.800 circa, ma in calo domani mattina a 1.500 sulle prealpi, localmente attorno ai 1.000 invece sulla fascia alpina. Sulla costa sofferà scirocco, sostenuto durante la notte con la possibilità di qualche mareggiata e di acqua alta sulle coste più esposte. Nel pomeriggio di domani il tempo migliorerà con schiarite via via più ampie. Domenica mattina di nuovo cielo coperto al mattino con piogge abbondanti sulla costa, moderate o deboli sul resto della regione, quota neve in abbassamento fino agli 800-1000 metri sulle Alpi, 1.300 sulle prealpi, un po' di vento di scirocco sulla costa e poi vento da nord e miglioramento rapido nel pomeriggio. Miglioramento che perdurerà anche lunedì come vediamo, c'è lo sereno poco nuvoloso che perdurerà anche martedì e mercoledì con la possibilità però di nebbie sulla bassa pianura in particolare vicino al Veneto. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto, buon Natale e buone vacanze.